Voci.fm, il magazine sul mondo della voce. Francesco Pannofino per Voci.fm approfitto per chiederti della tua adesione a questa campagna di Vix Vocal hashtag io sto con il doppiaggio intelligente alla quale aderisci contro questa annunciata app deep dub israeliana che pare possa clonare le voci degli attori in tutte le lingue e per cui in teoria tra poco potrebbe anche non esserci più bisogno di doppiatori e sappiamo bene come quello italiano sia il doppiaggio per eccellenza. Volevo sapere la tua a riguardo. Guarda, quella è una app che si sono inventati e fa delle cose incredibili, cioè hanno messo la mia voce in un programma alla radio facendomi dire cose che non ho mai detto, ma sembravo io proprio, era impressionante. e allora praticamente ipotizzano che si può utilizzare questa applicazione per doppiare i film però a questo punto non c'è bisogno di Pannofino. Se George Clooney deve parlare in italiano lo clonano, fanno l'app in italiano e lui parlerà con la sua voce in italiano se è così perfetta l'innovazione tecnologica. Io però penso che le emozioni è difficile che una macchina le possa ridare, almeno per ora perché stanno anche... Magari ci arriveremo Ma no, ma gli effetti speciali riproducono le sembianze umane però ancora non è perfetta perché i muscoli della faccia di noi esseri umani è molto complessa da riprodurre dal punto di vista tecnologico e soprattutto le emozioni, come metti gli occhi quando dici le cose e per la voce è la stessa cosa. Io partecipo alla campagna del doppiaggio intelligente lanciata da Vicks Vocal, che è un'associazione diciamo di doppiatori è un'istituzione e ho partecipato volentieri perché non mi sembra una bellissima idea ma non perché uno deve difendere il lavoro, anche per quello ma soprattutto dal punto di vista di resa artistica non mi sembra l'ideale Sento la tecnologia che potrà sostituire l'arte in tutti quanti le sue sfaccettature quindi bene se l'avanzamento tecnologico aiuta quello che noi facciamo non che lo venga a sostituire perché non troverà il favore della categoria anzi troverà sicuramente una categoria pronta a contrastarli Pienamente d'accordo e grazie anche a Gianmarco Tognazzi Invece per quanto riguarda il film ostaggi sempre in qualche modo a proposito di lavoro film peraltro molto fedele alla versione teatrale da cui è tratto che cosa hanno in comune tutti i personaggi del film secondo te incluso il tuo panettiere? Il fatto che tutti i personaggi all'inizio del film dicano io sono già stanco è quello che accomuna i personaggi che hanno tutti un disagio e non sa ancora cosa li aspetta perché sono già stanchi ancora prima delle avventure del film è quello che accomuna un po' tutti noi noi siamo stanchi di vivere così mascherati come diceva Haber prima di avere limitazioni nei rapporti sociali, il lavoro e noi siamo già fortunati perché c'è tanta gente che invece ha sofferto le tragedie non solo i morti e le famiglie eccetera ma anche gente che ha perso il lavoro e non lo ritrova più insomma non è facile soprattutto nel nostro mondo e noi parliamo del nostro mondo, dello spettacolo tante famiglie a disagio, chi fa teatro, cinema insomma gli spettacoli dal vivo, i concerti speriamo che si riprenda al più presto e quindi diciamo tutti i personaggi della commedia hanno tutti un disagio cioè nessuno vive felicemente devo dire che siamo stati anche fortunati e privilegiati perché la sceneggiatura viene dallo spettacolo teatrale quindi le battute che deviamo dire noi erano state studiate, pensate, valutate e rilette e rilette quindi non c'era niente da cambiare e oltretutto le battute che noi dicevamo svelavano i caratteri dei personaggi perché la cosa più bella di questo film è il disagio sociale, familiare, emotivo che provano ognuno dei loro personaggi ognuno dei nostri personaggi dentro questa panetteria in una situazione così a limite e pericolosa e lì escono fuori veramente i caratteri dei personaggi News dal mondo della voce Radio Doppiaggio Voci.fm E-Magazine Grazie a tutti.